La polizia locale di Diana Marina ha intercettato su capoberta due cittadini ungheresi provenienti dalla Francia che erano in cerca di un posto per accamparsi alcuni giorni. I due stranieri viaggiavano a bordo della loro auto stracolma di masserizzi ed effetti personali e hanno candidamente ammesso agli agenti di essere in cerca di un posto per accamparsi e sostare alcuni giorni. Visti i decreti attualmente in vigore per l'emergenza coronavirus, i due ungheresi sono stati denunciati, allontanati non senza fatica dal territorio comunale di Diana Marina con l'invito di rientrare nella loro città di residenza.